Buonasera Pasport Ladin dal Mengs d'Aurien, che si ha depresi dal Deut al Feminin. Arianna tricomi da Corvara davanje la Freeride World Tour, che non poteva definire come la Coppa del Mondagì a Nei Fresca. Noi sono giusti a chafferciare la giornata a Badiotta ad Esprocola, caravir, studia e saleneia. L'ultimo appuntamento della Freeride World Tour degli anni ha avversato la Svizzera, che è più la mecca del Gia Nei Fresca. E' questa occasione a Arianna tricomi da Corvara la grande chance della sua vita. E' abbastanza buon risultato per davanje la Tour 2022, in pratica la Coppa del Mondagì Freeride. Ma la Cina non è davanje la gara, una delle più riega del circuito, ma ha il suo giusto titolo che potrebbe sentire che non si tratta di più di sport, che è un ambiente già, dinamico, internazionale, ed è molto interessante per grandi sponsori. In Sania, io ho bisogno di realizzare la situazione. All'inizio, ero inizio, ero inizio, ero inizio, ero inizio, inizio, ero 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 inizio, ma si sa chi ha voglia di agire qui qui, e questo è per me la cosa più importante. Cina chi ha voglia, e le grazie di agire qui qui, penso che tutto va bene. La Sajundangiana, metti uman, attira der Bunko, una diventa di Arianna Tricomia, Haku Battagliapan, e la cara attira, metti le scherze, sui mesi. A Golden, al Canada, ha raggiunto il secondo posto, da sua concorrenta, Eva Walkner, dall'Austria. Da due terzi posti assoluti, dai ultimi due anni, parell che al fos, in il grande momento. Io, a Cajan, mi senti da Bunko, ero inizio, ero inizio, da fare troppo qui qui, da che ero inizio, l'Università, l'anno passato, quindi, avevo l'occasione di fare troppo. E, mi senti anche, che Cajan, aveva la partenza, e aveva la propria voce, e aveva la propria voce, che ero inizio, e aveva la sicurezza, e aveva la sicurezza. Le grandi salte qualità, si è passato la gara, di Val Nord, all'Andorra, ai primi di merti. Arianna Tricomia, ha vato a G2, e ha provato a fare un salto, da 360, le primi, la storia, del freeride femminile, a livello del World Tour. Le Grand Trike, che ti porta, la diventa, la terza gara, il ecce del Slazamont mondiale. Il Slazamont, il Slazamont, è una cosa particolare, speciale per me, perché le belle tue, che ero in fanno, e la gara, il Slazamont è un rischio, se non è la gara, e il Slazamont è un rischio, e la città, e la città, e la città, è un'attività personalmente, per me, è una cosa importante, più che il risultato, e la città, è comunque buon, e il tifo che dici, mi ha fatto dappè, che mi ha fatto un buon al cuore, e sono contenta che l'ha fatto. e la città, e la città, la città, è un bel sport, ha preso da treci giorni, a livello mondiale, ma qua ince su Prighi, Arianna Tricomi, se senti, perché è incempi, una ambascia della città, del Slazamont. Speri, che questa vittoria, deve essere in Cioedli, e la gente d'Italia, sulla bellezza del sport, oggi sono il prego, che non è molto bello, ma non è molto bello, quando siamo fuori la pista, e speri, di poter dare un buon messaggio, a tutti, sul Mataverda, e, da, rivedere il sport, un bel plan, e rispettare il mondo. Piolana la diventa, la tour di Arianna Tricomi, e le freeride ingegnute, con i cittadini, e i cittadini, o la che le sci alpine, comandano treciamo. Demà, sarà Arianna della Norvegia, a fare un progetto video, che farà, per la ruota del mondo digital, e anche, in domani, la prossima freeride world tour, alla fine dell'anno, o la che l'atleta da Corvara, sarà, po' la defensoria del titolo. In la giubbia passata, il Stia Milan, le Gran Galà della Neve, in cui, i primi più sportivi, dal d'inverno 2017-2018, con le discipline più sviluppe. Alla parte, Silvia Bertagna, e Lara Malsiner, di Gardena. Iniziamo da altri, Noelle, ancora, per il sport compatto. Iniziamo il resto, il giorno di Mal, conferendo la qualificazione per le Olimpiadi della Corea, a Silvia Bertagna, da Ortizia, alla fine, iniziamo davanti, la Coppa del Mondo, Big Air, al freestyle. Il titolo non è più sorpresa, ma, iniziamo la bella carriera dell'Atleta di Gardena, che ha fatto conoscere che il sport inizia la Ladinia. Inizia la categoria continentale, l'Atleta di Gardena davanti il titolo di Big Air freestyle. Sofia Insam, da Santa Cristina, davanti due le tre gare sul calendario, inizia la seconda e la terza. La Coppa Europa è perché l'Atleta di Ladinia, mentre la jeune atleta si è fatta da 100 anni da due anni. La seconda Coppa Europa che ha avuto in Giante Gardena è merito di Daniele Baghozza da Ortizia, che ha giudicato l'amont general di Parallel di Gico Labria. Di più risultati utili per la sua giunta apportare che il trofeo di valuta può esigenere le più chance della Coppa del Mondo in Nateran. La biathleta di Gardena Alexia Rungaldira davanti al primo titolo italiano di sprint per i campionati nazionali di biathlon di Antholtz. Con 0,5 ha avuto un vantaggio di 12 secondi su Federica Sanfilippo e l'Atleta di Santa Cristina ha avuto il gioco l'Olimpico con il titolo italiano. La jeune atleta del plan èусulare il parta l'atleta di Richtung per la prossima a Nante da scripture di Gran Prix con la specialità del gigante. Ha avuto la riconoscenza che ha venduto le più grande discipline la disciplina del sci alpine. Il campion italiano è giocato dal passaggio che ha avuto la carriera e meritano la carriera. Inoltre a Manuela Molch ha avuto la fine della sua carriera da Gico Eschi. Dopo due giorni, delusioni e successi all'atleta Marora su suo conto sono qui che ha fatto il bilancio per il Sport Ladin e si è rivelato in un campione di valo su Dany. Nel 2001 Inoltre a Manuela Molch ha avuto la scuola del Mondeschi e che lo dì prez viena di Alena Mont a Gares, 3-2 anni fuori. La finale è stata l'ora di lasciare. Inoltre ha avuto l'atleta del Plan del Mareo tutta la grande decisione. Un anno, ho detto bene, ho avuto l'Olimpiadi e ho avuto la carriera e ho avuto la carriera e ho avuto la carriera. Ho avuto la carriera rascetti con le tanti che ha fatto i tre 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 uomini in una stabile non mi sapeva di farlo, e quindi, sì, io ho un po' più bello che c'è, magari. Io vado in un po' più sorriso. E questo è un po' il terzo momento, perché il mio sogno che l'entrista è riuscita, sana e aveva fatto una bella saison, cioè che lei portò l'ultimo ricordo in Romagna. Con sui 35 anni, da Etè non ha passato 31 anni sui schi, messa la vita della Coppa del Mondo e ha raggiunto treppi della sua carriera. 14 posti, 24 risultati tra i top 5, più di 50 top 10, tra tutte le 3 Olimpiadi e 6 campionati del Mondo, che hanno avuto 3 anni di campionessa italiana assoluta. Alla mancina diventa, ma che la più forte in dettaglio è la mezza del palmarès del Ricchete. Alla fine è vero, è una vittoria, una coppetta con Manfred, o una medaglia, ma ha potuto vivere comunque un momento con Manfred, con Albu questa occasione, e perché sono un po' incontenta della mia carriera che ha fatto con i podi in ogni anno. e quindi ho detto che i tre i podi che ho fatto in ogni anno ma è tanto godi proprio, perché sai cosa che puoi raggiungere, e sono in una stessa buona da raggiungere, da ogni anno riuscì. E questo è per me è bellissimo in ogni anno. D'anno 2.30 e che spettate due scocciare a una vignettante con la medaglia, per esempio. E questo era l'opera di mezzo, perciò che io ho messo in gioco, sono un gioco di Val d'Isere ogni anno delle Olimpiadi, che comunque non ho messo in gioco. L'angelo è inglese in gioco, purtroppo. come ho detto, ma la mamma ho imparato tre cose per combattere, e da vivere in gioco con la nidra, e la loro servizia, e questo sarà subito per il futuro un buon segno per i piedi. In mia carriera ho fatto un grande podi, ho fatto un grande top ten, che non mi ricordo neanche gli utanti, che non ho fatto un tempo in passaggio in canta. e ho anche i più grandi obiettivi, che sono stati in tutte le sezioni, più altissime sezioni, per via di operazioni, quindi... Valchimarroti ho anche il buio anni, che ha il buio treppi di spina, ma incienlo ha anche il camp, sono un po' giusto al start, incienco con me, e perchè il sogginia stessa un sorriso. Zena Emanuela a Ciasa ad entrare al Plan de Mareo in Maran, ma c'è una massa d'ora da capire tanto che la vita si muderà. Nel momento, ha dato le possibilità di averte, tanto romani e ai finanziari, lauretta la residenza a Ciasa offre la maestra e la struttura di schi. Le Tompe portarà conseil. di giù che le lauree non manchano, e la ciasa a Ciasa, le residenze, e oggi, si non si è molto bella lauretta, perché, come ti chiedo, ha capito che ci sono, e... non si è molto bella, ma lei ha capito un attimo che ci può essere stessi, e non si può cambiare plata per capire. Treppes Atletes ha fatto per anni a lungo la Coppa del Mondo, e dei treppes non si ricordano neanche più lunghi. E Manuela Mölke, una delle carriere, guadagnò attratta l'attenzione per prestazioni, simpatia e tal duo con Sofrè e Manfred. Ma non è perché il mio prego quando la Desmond ci sia, senza lasciare da fagare. in questo modo. Io spero bene che romani un po' dal cuore dei fanci e della gente, perché io andrei provo a stare in me stessa e magari in confronto a due canci e perché sono che sportveri e che persona romanierei. In 20 ore la Maran le balle del sport metto d'agire all'assist-sport di Sud Tirol. Il rapporto la meia sportiva dell'anno 2019 di Sud Tirol. In 27 e 28 ore la Firenze è un meeting internazionale a invitare Dekathlon a quelche al tolperti con Alexander Demet e Alex Verginer dell'Atletica Gardena. In 17 giugno prendere la nonna edizione della Hero Dolomaits. Maratona di Roda da Munt in Cerle Sella. E al primo mese la 32 edizione della Maratona delle Dolomites. Gara della Roda senza strada qua bine ad un prezzo 10.000 partecipanti. Che gesti sport laddini dal bens d'auri e ho l'an di osta attenzione. Sì ora, sud unsendo a iortemà. Buonanet! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!